La Region's Cup sbarca in Liguria per la prima volta nella storia. La tredicesima edizione della massima competizione europea per dilettanti inizia in cocomitanza con la Champions il 17 settembre. Liguria e quindi Italia inserita nel girone 8 con Romania, Malta e Croazia. Primo turno comunale di Chiavari. I Liguri ospitano la Romania. La rappresentativa di mister Beppe Chiappucci parte col gas a tavoletta a sgasare sulla sinistra secondo il minuto espano. Sul cross al centro costache, calcio in porta, ma è la sua ed è il più classico degli autogol. Sotto shock la Romania sulle ali dell'entusiasmo. La Liguria, minuto 5, Cicirelli in aria, destro delizioso che si spegne sotto l'incrocio dei pali. 2-0 senza neanche il tempo di scrivere sui tuacquini e punizione alta di Baroni a confermare la supremazia della formazione di casa. La rappresentativa romena reclama un calcio di rigore per questa trattenuta sumreana. Poi solo padroni di casa ai gol del 3-0 con il traversone basso di Zuppirelli, il tocco di spano e l'intervento non perfetto di Bistaie. 3-0 dopo 15 minuti la Romania si sfalda, da Monte inizia una ricerca del gol che durerà per tutta la partita. Al ventesimo diagonale del numero 8 è parata di piede di Bistraie e 5 minuti più tardi un cross rimparato di Zuppiroli costringe l'estremo ospite a smanacciare sui piedi del giocatore della Renzano che però trova di nuovo la respinta del numero 12. La sliding door della partita arriva al diciannovesimo, Niagulancia-Soria, il numero 19 sbatte su Luca Bartoletti e allora gol sbagliato, gol subito. Dall'altra parte spano, sgomma sulla sinistra, suggerimento per Travell, è un regalo di Natale con qualche mese di anticipo. 4-0 e il numero 17 che cerca gloria anche su punizione, la gloria però la trova. Il più piccolo in campo è di costa al gol del 5-0 con una rasoiata di destro su una ripartenza fulminia della selezione di Cappucci. Il tempo si chiude con Spano lanciata a rete e l'ennesima parata di Bistraie. La seconda frazione è Damonte contro la Romania, il numero 8 dell'Arenzano apre il piattone davanti al portiere al quinto minuto, poi si prepara bene la conclusione ma strozza al destro da dentro l'area, a metà frazione fa tutto bene imbeccato da Macagno, ma trova una super parata di piede di Camarajan e quando finalmente trova il gol sul sviluppo di una punizione viene fermato. Dal secondo assistente nel finale l'orgoglio romeno si scontra con Mondini che subentra Bartoletti e timbra il cartellino sulla conclusione di Criscia, su un angolo che ne consegue, mischia in area Ligure, ma la difesa in qualche modo sventa. Buona la prima saluta per la Liguria in Regions Cup, sognare le falne a sora è possibile, prossimo turno con Malta.